andiamo allora adesso proviamo a spingere un pochino di più ok facciamo un giro un po' di tirato e un giro più tranquillo in modo da raffreddare le gomme va bene? mi sembra un'ottima idea a me è il risultato non mi sembra un'ottima idea non mi sembra un'ottima idea è il risultato è il risultato Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. a tutti. no, 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 no. la scelta. due curve.